Allora, Bungie deve fare l'ultima espansione di Destiny 2 prima di accantonarlo E dovrebbe star sviluppando un gioco per Sony Quindi Bungie, grandi fautori dei giochi multiplayer, potrebbero tirare fuori qualcosa Che tipologia di gioco? Battle Royale, Open World, Survival, MMORPG alla Destiny MMO FPS, scusatemi Vai Iniziamo Mature 17+. Dio, Cinematic Trailer Basta Fatemi, vedi i giochi, sono due anni che non vedo i giochi Take, take their.money Ma è back for blood dei rapine? Multiplayer Guardia e ladri 5 pc però È un gigantesco boh, perché è un cinematic trailer Bello, che sta roba, ho DST Che è sta guattata ignorante Oh no E quel giochino Tower Defense, me sa Helldivers, sì è Helldivers Oh no Oh no Va bene, è un gioco carino così Io sono in quei giochi, capito, che fai la serata gaming Tra influencer Ma è quello di Electronic Arts Sì Harry Potter spara tutto È un course of duty È tipo un Doom con le magie Cioè questo è il feeling che ho Non lo so, pure quando l'aveva fatto vedere Electronic Arts ho detto Boh Oh Mi piace già il design, eh Design è accattivante Prova Spunk Ok, Prova Spunk 2 No No, c'è dracazzo Così Destiny Frate, ma è Biomega Ah, è quello lì del Ninja No, è così Pare Biomega visto così Sì, sì, è Ghost Rider Figo C'aveva una vibe da Biomega il manga Quello di Niei Non so perché mi ha fatto vibare un bot Carino questo 2023 Stacce Ah, questo è un bel gioco ragazzi Dura poco, eh Però è bello Ti tagli Cos'è questa roba Giapponese medievale? Più che giapponese sembra cinese Sembra cinese Dura giapponese Sembra cinese Sembra cinese Che cazzo è stata amarrata Ma che è sta roba? E sai chi l'ho fatto in Cina Frate Bro, ma che è stata amarrata? Bro, pare Pare una versione di Tenshue Arcade Ma che cazzo? Ma che è sta roba? Oh Eh, sti cazzi Sare free flow De Batman Me l'accollo Bro, che cos'è questa tamarrata? Cioè qui sarà tutto Che devi prendere un tasto solo Però sti cazzi Vi giuro che se sto gioco Non è come in questo trailer Madonno, eh Proprio expectation reality Ma le animazioni sono incredibili Regà Non sarà mai 2023 questo gioco Phantom Blade Zero Boh Me l'accollo Ma qua pare la roba di Sekiro Do star fa E là lo scultore Come coming to PS5 Ma come? Non c'è mai una cazzo di data Ah no Questo non lo so Questo mi sembra un grande bo Per carità Bello Up to bello giorni Ma Sì questo è Tomodachi game Vabbè Per ora comunque Ghostrunner Vabbè Katane Uguale W Cazzo E' un robot di un robot Però sono tutti i teaser C'hai mai giocato? No C'ho giocato Michelona Ma è vecchissimo Dallo Sprinzipal Sì è un puzzle game Un puzzle game Beh sta tipo piangendo In questo momento Vabbè qui è giocare Con i sentimenti Delle persone però Neva Come il fatto che Non lo comprerei mai Tomodachi game Bro 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 What? Fortnite? Oh, però bello con le musiche K-Pop Prima, se non mi fai vedere il gameplay Cioè, si sparano con le acque e con le bolle di sapone E' tipo Splatoon Se tu vedi, perchè c'hanno due colori differenti Eh sì, Splatoon Kawai Splash, beh serve un bel nome Kawai Splash Vabbè, è Splatoon della Play Che l'idea che è così sul libro è finissima Nostri heros proteggono la terra Da il villanissimo sorcerer Han Grump Molto bella l'idea Tommodaici game ma l'idea... Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Insane Off the page and into adventure Insane Mazza che idea, oh BASTA NOCT ACTUAL GAMEPLAY Oddio che schifo Eh però è sempre non actual gameplay Ragazzi, potrebbe essere un gioco in 2D Sì C'erano delle pietre volanti lì In fondo Sì 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 Metal Gear? Metal Gear? Ma che cos'è Metal Gear Solid Triangolo? A Ah però escono gli altri giochi Non ho capito raga Delta? E che c'entra Delta? Scusatemi Delta che è la quarta lettera Capture a Dom PC consolare Questa era cattiva Ma che cazzo è sta roba? Zelda? Zelda se fosse stava fatto su PS5 Towers of Agasba Io Metal Gear non so se essere ipato Perché se non è... Cioè, avendo giocato solo l'1 Non so in che punto si colloca Prima mi dicevano che è un prequel Boh Final Fantasy questo Eh ma se crologicamente viene prima di tutti E mi fa degli spoiler sull'1,2,3 E' male per me Cioè... In... In questo... Nightmare I write To escape Every word is a step forward Oh... And a darkness Alan Wake, Alan Wake, Alan Wake, molto bello Le chiusure è Spider man due tanto Devia parlare gli intermezzi cosa cosa il dark so they shot però il dark soul dei shud oddio che missile che hanno fatto mamma mia insane questo hanno riciclato tutti gli asset però sti cazzi no vabbè mamma mia il più bell'annuncio questo allucinante quando è uscito dragon's dogma il primo user che ce l'ho scritto oh bungee l'fps bro cazzo extraction looter shooter eh si hai visto i secondi dietro che scendevano extraction looter shooter comunque quanto so bravi a a fai design loro è incredibile me l'hanno venduto me l'hanno venduto che si venduto me l'hanno venduto me l'hanno venduto niente spiderman 2 eccolo signore e signori e come il pilgrim so easily forgotten no non è vero wolverine questo è il fratello di wolverine usiamo il fratello di wolverine sabertooth grazie sabertooth extraction shooter confermato marathon e il cacciatore si si è cravano allora è spiderman da ser cacciatore ho chiesto per un equale non hai idea spiderman parlare lezart part lezart scusi as or il zero questo è Oh, no, no, no. He's gonna wish he never came to New York. Stand by and take the order. That wasn't me. Me neither. I don't even have a stomach, so... Let's go! Cosa non fa venire un pochino troppo del gioco? Questo è davvero, 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 davvero. No, no, no! I'm going to gettere! I'm going to gettere! Help the tourboat! Frank, I've got the metal murder bird! I warned you about going after Connors. Now this is on you! Poison clouds, is that all you've got? Almost done here. Civilians are all safe. How you looking? This gunship won't quit! I'm right behind you. We'll take it down together. No time! Time to go boom, boys! Oh! No, no, no! Spider-Man, it's got... Defenses! Spider-Man, hang on! Over there! Go on with the Tendrix! He got away from us. It's good Pete. I saved the tracker. Andiamoci prima che si arriva troppo vicino. Non. È mio. Hai sicuro? Ha pezzi grandi. E io. Um, non è normale così. Certo? Non. Non è mai così così. Ma può essere pure che... Che non è male. Mi è piaciuto perché possono fare una narrazione cattiva di Spider-Man, probabilmente. Cioè, lo spero. Vabbè, Marathon, insomma... ...